Musica Salve ben ritrovati in un appuntamento con l'altra campana, abbiamo strappato ai suoi impegni, è proprio il caso di dire letteralmente in questa giornata l'assessore ai lavori pubblici del comune di Foggia Antonio Bove, benvenuto. Buongiorno. Assessore, era importante che lei fosse qui anche perché tante questioni sono all'attenzione anche dell'opinione pubblica, se ne parla sistematicamente, anche le recenti piogge e una città bloccata ha portato la stampa ad interessarsi relativamente alle questioni che attengono ai lavori pubblici. Recentemente c'è stato anche questo scontro a mezzo stampa con alcuni consiglieri di opposizione e non rispetto a quello che lo Stato, partiamo subito dallo Stato delle strade. lei ha dato una risposta molto secca, ha detto ci stiamo impegnando rispetto a ne abbiamo asfaltate più noi, insomma, che il centro-sinistra in dieci anni. Questa battuta ha fatto un po' il giro del web. Allora, facciamo un po' il punto della situazione, partendo anche da quello che è stata la situazione negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, alla luce anche del maltempo che è intervenuto. Sì, allora, il problema delle strade è un problema molto sentito, è un problema che aveva avanti purtroppo da parecchi anni, infatti non a caso il mio intervento, la mia risposta alle critiche che mi venivano fatte, non era un intervento tanto per parlare, ma effettivamente, concretamente, noi, o meglio, l'amministrazione Landella ha in questo anno e mezzo asfaltato più strade che non la vecchia amministrazione, o meglio, le due vecchie amministrazioni. Le risorse sono quelle che sono, noi stiamo facendo il possibile per fare perlomeno i ripristini delle strade più, diciamo, pericolose. Infatti abbiamo provveduto al ripristino di Viale Michelangelo, che era un'arteria, diciamo, molto, molto delicata, anche perché in quell'arteria le macchine, insomma, vanno ad una velocità abbastanza sostenuta. E quindi stiamo provvedendo e stiamo completando adesso la zona di Viale Primo Maggio, dove ci sono stati anche in passato dei morti, quindi, voglio dire, a maggior ragione, bisognava dedicare le risorse, le poche risorse che abbiamo a queste arterie più pericolose. Quindi a noi sta a cuore la città tutta, però, se dobbiamo pensare a fare dei ripristini, dobbiamo comunque cercare di farli lì dove c'è più pericolo. Dove c'è più pericolo, però quello che, diciamo, viene sollevato in queste ore, non soltanto, insomma, dalla politica. Parliamo dell'opinione, parliamo dei cittadini che poi frequentano le strade personalmente. Vabbè, sì, le rifacciamo, però poi, insomma, passa un po' di tempo e comunque si riaprono delle buche o comunque c'è del manto stradale o comunque non vengono fatti a regola d'arte, manca, diciamo, quelli strati che dovrebbero proteggere dallo scorrere del tempo e siamo sempre punto e da capo. Chi fa i controlli dell'espletamento, insomma, proprio degli interventi? Sì, allora, in passato, ho capito perfettamente la domanda. In passato non so chi se ne occupasse di questi controlli, anche perché non sono andato a vedere, ora mi sto occupando del presente. Da quando sono io assessore vado personalmente con i tecnici del Comune a fare i sopra luoghi per verificare effettivamente sia l'importanza dell'intervento che l'effettivo ripristino a regola d'arte. Mi faccio, logicamente, supportare da tecnici perché io non sono un tecnico, io faccio l'avvocato, però mi rendo conto che effettivamente in passato non si è operato in maniera, per così dire, in maniera corretta, nel senso che alcuni ripristini sono stati fatti male. Mi riferisco anche all'Acquedotto, all'Enel, Telecom e quant'altro. Infatti, non a caso, abbiamo circa 20 giorni fa istituito presso il Palazzo di Città un tavolo tecnico con ACUP, al quale è intervenuta l'ACUP, proprio per questi motivi, per i ripristini stradali. Perché se no si rischia di buttare soldi, buttiamo un velo di bitume, però poi stiamo sempre punte da capo rispetto alle altre stradali. Per quanto riguarda, questa è una domanda molto interessante anche perché nelle prossime settimane, o meglio nei prossimi mesi, a breve inizieranno nel quartiere, nei quartieri settecenteschi, quindi al ridosso, alle spalle della Chiesa delle Colonne, per intenderci, e quindi di Corso Cairoli verso via Matteotti, l'Acquedotto rifarà la fogna e l'acqua di tutta quella zona. Ora abbiamo concordato con l'Acquedotto di rifare i ripristini totali delle strade che verranno attenzionate da questi lavori e l'Acquedotto si è mostrato disponibile a questi ripristini. Stiamo in trattativa anche per i ripristini nelle zone periferiche, quindi via Castimedisco, via Castelluccio e altre zone che hanno già avuto l'intervento di questi lavori, che sono lavori comunque importanti perché noi abbiamo delle fogne, soprattutto in quelle zone che vi dicevo, di vecchie di 60 anni, e quindi con perdite e quindi tutto quello che ne deriva, e quindi insomma è una cosa... Quindi è sicuramente una materia complessa, rispetto a chi ha trovato sul tavolo una patata bollente perché poi è assessore da pochissimo tempo e sicuramente non possono essere imputate se non altro lei le responsabilità di quello che è accaduto, quello che è accaduto per esempio nelle ultime giorni di maltempo, insomma anche la città di Foggia è venuta fuori in tutta la sua ma la gestione per esempio rispetto alle calitoie, rispetto ai tombini della città, insomma l'acqua che non defluisce, completamente otturati, si sta provvedendo a rifare anche quella... Si sta provvedendo, assolutamente sì, però insomma Foggia e soldi ne ha spesi per provvedere alla manutenzione di quelle, proprio per evitare che si incappasse in situazioni del genere... Certamente. Anche qui cosa è successo? Come abbiamo lavorato? Allora, le spiego. Il problema di un paio di settimane fa è stato un problema, un evento atmosferico particolare, tant'è che è stata chiesta anche la carità naturale, quindi non soltanto da noi, purtroppo il meteo negli ultimi anni ci sta facendo capire che le cose sono un po' cambiate. Eh sì, però insomma... Però diciamo, per quanto riguarda la nostra città, no, stiamo intervenendo, infatti le posso già preannunciare che stiamo facendo delle nuove caditoie proprio per evitare nelle zone di Foggia dove c'è più, dove persiste più questa problematica. Adesso stiamo con il geometra addetto a questa problematica, stiamo operando per fare circa una quarantina di caditoie supplementari per risolvere nelle zone più, diciamo, dove il problema persiste più, diciamo, insistentemente con le piogge, stiamo provvedendo a fare questo. Però non basta solo questo. Però noi dei soldi li abbiamo già spesi in passato per provvedere alla manutenzione di questa roba qua. Come è avvenuta questa manutenzione? La manutenzione, io non posso, diciamo, parlare male delle ditte che fanno la manutenzione, anche perché non sono a conoscenza perfettamente di quello che è stato il passato. Però le posso dire che quando chiamiamo la ditta che ha la manutenzione delle fogne, la ditta risponde e gli interventi si stanno facendo. Sicuramente ci vuole più impegno anche da parte della ditta, semmai a supportarci con più squadre, perché nel momento in cui si blocca una città perché esondano due fiumi e con tutto quello che ne consegue, insomma, non è una problematica che può risolvere un'impresa che ha la manutenzione delle fogne. Ci vogliono, diciamo, ci vuole un coordinamento più ampio di forze dell'ordine, di protezione civile e anche di volontari, perché qui si è trattata veramente questa volta di un evento eccezionale. Quindi mi rendo conto che bisogna cercare di prevenire queste, qualcosa si sta facendo in questo senso, perché noi ci stiamo comunque rapportando con la protezione civile e anche, come dicevo, con i volontari e con i vigili del fuoco per cercare di limitare i danni, perché purtroppo molti cittadini ne hanno subito dei grossi danni. Beh sì, ci sono ancora delle situazioni, sì, ancora delle situazioni nel cui ripristino è in corso d'opera, oltre Via Napoli, insomma, penso a tutte quelle zone lì che poi sono state particolarmente colpite, dove lavorano ancora insomma le pale meccaniche. Esatto. In Via Napoli noi stiamo facendo anche un ripristino dei cavi rubati, non so, è un'altra problematica che abbiamo. Sì, quello dei furti di rame. E abbiamo difficoltà, proprio negli scorsi giorni, proprio per questa alluvione così copiosa, abbiamo avuto difficoltà al ripristino di Via Napoli e quindi ci siamo dovuti spostare in altre zone che erano state meno, diciamo, attenzionate a questo problema dell'allagamento. Però il problema, un altro problema grosso, dicevo, è proprio quello dei furti, dei cavi di rame. I furti di rame che continuano, insomma, a foggia. I furti continuano, stiamo cercando di tamponare il problema, cercando di cementare i tombini per evitare proprio il furto stesso, soprattutto nelle zone periferiche dove avvengono questi furti. Ma si sta pensando, poi anche con l'energy manager, anche per evitare eventuali furti nelle zone. Ah, certo, l'energy manager, Antonio Bruno. Antonio Bruno, ingegnere Bruno, sì. Stiamo pensando a studiare un qualcosa di, un antifurto per evitare questi furti. Questa continua, questa razia, insomma, praticamente che si sta facendo e che sta provocando non pochi problemi, appunto, dal punto di vista... Non soltanto problemi economici per le casse comunali, perché comunque, insomma, non sono, voglio dire, sono risorse che vengono sottratte ad altre priorità. Quindi che andrebbero a beneficio di altre cose, perché le problematiche sono tante. Quanto abbiamo speso finora per ripristinare, insomma, lo status quo? Guardi, non mi faccia dare dei numeri. Comunque, credo, se non ricordo male, la società che sta facendo i ripristini ha un appalto, ora non mi faccia dire numeri che non ricordo. Beh, insomma, è un'idea di massima. Se non ricordo male, torna ai 150 mila euro. Ora non vorrei... Non sono, insomma... È una insomma molto robusta. Ma non bastano, non bastano questi soldi. Allora, quindi strade, caditoie, rispetto alle quali, insomma, ci ha detto che si sta provvedendo anche ad un rifacimento parziale, l'accordo con Accoliotto Pugliese, il tavolo che c'è stato a Palazzo di Città per, anche lì, interventi che riguarderanno il sottosuolo. E di recente c'è stato anche un vertice sulle scuole, insomma. C'è stata una sorta di ricognizione dello stato delle scuole. Uno di questi edifici è stato anche chiuso, mi pare, temporaneamente, tempo 24-48 ore. 24 ore, sì. Che scuola era? La scuola Altamura di Amicis di via Petrucci. Eh, che problema aveva? Aveva un problema, proprio a seguito di queste piogge continue, un problema di riflusso di fogna, che comunque è stato poi prontamente, diciamo, risolto dalla ditta... Lei mi ha detto che la situazione delle scuole è molto preoccupante. Beh, la situazione delle scuole è molto preoccupante, nel senso che è mancata la manutenzione negli ultimi anni. Io non voglio dare la colpa sempre a chi ci ha preceduto, però voglio dire che è un dato di fatto. Basta fare un giro tra le scuole e rendersi conto che non è stata fatta l'ordinaria manutenzione, a partire dall'impianto elettrico alla semplice dipintura e quant'altro. Sono problematiche che stiamo risolvendo con l'appalto che abbiamo dato alla ditta CNS, la quale appunto sta intervenendo in molte scuole per problemi di infiltrazioni, per riparazioni di bagni, di ostruzioni di lavabbi, di sostituzioni di rubinetti, insomma, dalle piccole cose alle cose più importanti. E la stessa ditta CNS ci sta supportando, perché l'appalto comprende anche quello, anche per le strade, quindi per le buche e per i marciapiedi. Quindi anche per gli altri plessi comunali, quindi anche per la proprietà comunale, per gli altri edifici comunali, non soltanto per le scuole, per l'edilizia scolastica. Se si volessero mettere a norma tutte le scuole di Foggia ci vorrebbe una somma? Ci vorrebbe una somma che si avvicina molto ai 10 milioni di euro, forse va anche oltre, perché purtroppo, le ripeto, noi abbiamo circa 70 scuole, il Comune di Foggia ha la manutenzione di 70 scuole, quindi si rende conto che manutenere 70 edifici, non sono 70 appartamenti, sono 70 plessi, con tutto quello che ne consegue, insomma, non è una cosa da poco. Quindi intervenire per ripristinare, per mettere a norma tutti gli edifici scolastici ci vuole circa, insomma, quasi 10 milioni di euro. Abbiamo fatto fare un calcolo dei nostri tecnici. Quali sono gli istituti che sono messi peggio? Beh, diciamo che tutto sommato pericoli non ce ne sono. Diciamo che una scuola un po' più diciamo critica è la scuola di Via de Amicis, Altamura di Amicis di Via de Amicis, che però stiamo lavorando per cercare di rimetterla, diciamo, in sesto, ripristinare le criticità che ci consentono di mantenere aperta la scuola, insomma. Ho riconosciuto io stessa che lei è assessore da pochissimo e quindi, diciamo, ha avuto appena il tempo di prendere contezza di quello che è lo stato dell'arte, di quelle che sono le le cose alle quali dovrebbe provvedere. Altrettanto, giustamente, lei su molte questioni ha detto in passato non si è fatto questo, in passato non si è fatto quello. Un problema però che sussiste e che probabilmente cade anche sotto la responsabilità di questo primo anno di governo è quello più sentito, un tra i più sentiti che è quello della pubblica illuminazione. Lì, insomma, saltuariamente, ora un quartiere, ora un altro, o si persiste in una determinata zona, insomma, la pubblica illuminazione continua a lasciare molto a desiderare. Sì, la pubblica illuminazione è un problema serio. Lo stiamo risolvendo anche perché, come vi dicevo, stiamo collaborando con l'energy manager per cercare di cambiare proprio volto a questa città. Noi siamo in continuo contatto con l'ingegnere Bruno per cercare di efficientare la città, perché oltre a dare sicurezza con l'illuminazione dobbiamo cercare anche di fare un risparmio, perché noi abbiamo già problemi di sprechi di energia elettrica e altre problematiche che riducono le risorse che potrebbero essere spese per il bene della collettività e quindi stiamo camminando in questa direzione per cercare di dare una risposta, diciamo, definitiva alla città, avendo anche un ritorno economico, sempre per il bene dei foggiani. Io sono un foggiano, quindi ci tengo alla mia città. Quindi risposta definitiva ha anche dei tempi questa risposta? Io non credo che passerà molto tempo. Sicuramente la macchina amministrativa è una macchina un po' lenta e io me ne sono reso conto proprio dal 6 agosto ad oggi. Però se c'è la volontà politica di fare le cose, diciamo che… Però se la macchina non cammina tutta la volontà politica… Si può accelerare, si può accelerare questa cosa. E c'è comunque la volontà di rendere le cose più… diciamo di far camminare meglio la macchina, ma soprattutto per la sicurezza della città, perché la pubblica illuminazione è la prima cosa che mi viene in mente, è la sicurezza della città, il controllo del territorio. Certo. E tutte queste cose, diciamo, le ha dovute comprendere in due mesi, più o meno tre mesi quasi, di assessorato. Insomma, l'augurio se non altro per far camminare le cose in maniera più spedita e quello che resti alla guida dei lavori pubblici, perché anche questo per esempio è un altro dato, perché se poi le persone cambiano nel giro di pochissimo tempo, fino a quando si prende contezza di tutto quello che c'è da fare, si comincia ad avviare un iter di intervento, insomma, altrimenti ci giriamo intorno e stiamo sempre... Questo è vero, effettivamente se si cambia spesso uno non fa in tempo a fare il rodaggio per poi partire. Io credo che comunque, spero che non mi smentisca il sindaco, penso che dovrebbe essere un'aggiunta... Non balneare. Non balneare, come ha dichiarato, ha dichiarato lo stesso sindaco. Le sue dichiarazioni e dunque toccherà a lei continuare e soprattutto rispondere alle situazioni di cui abbiamo appena parlato oggi, di tornare a parlarne in termini più risolutivi rispetto a tante questioni che oggi restano in sospeso. Va bene, io nel frattempo comunque la ringrazio per aver trovato il tempo, soprattutto perché le emergenze sono tante, aver trovato questo quarto d'ora per venire in studio qui da noi, è una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a lei di cambio. A voi tutti, ci vediamo domani, arrivederci. A voi tutti, ci vediamo domani, arrivederci.